Il video è offerto da AutoE Il video è offerto da AutoE Ci sono partite che iniziano una settimana prima del fischio d'inizio E ti logorano il fegato nell'attesa Ci sono partite che valgono più di tre punti Valgono storia, onore, rispetto Dal Marcello Melani Stadium di Pistoia Pistoiese Arezzo Un saluto da Stefano Carlesi Il maestro Antonello Caruso in regia E Giacomo Tempestini da bordo campo Diamo subito la lettura delle formazioni Partendo dagli ospiti che scendono in campo Con Scarpelli, Bricca, Tonetto, Carteri Dierna, Zaccanti, Rascaroli Carfora, Invernizi Quadrini e Di Santo Passiamo adesso agli arancioni Della Pistoiese di Massimo Morgia Che schiera Sambo, Giovanelli, Nocentini Belli Collacchioni, Giordani Toledo, Gambadori, Bigoni Buglio e Peluso Super spot e poi tre minuti più importanti di questo match In Via della Madonna Vicino alle scuole Alimentari Marco e Federica Prezzi scontatissimi per panini e spuntini Un esempio Pambab 1,50 euro Odog a 1 euro Grande rifornimento di ogni genere di oggetto Vieni a trovarci Alimentari Marco e Federica Via della Providenza 35 Pistoia Calcio d'angolo per l'Arezzo Battuto sul primo palo Ed è il gol dell'Arezzo Praticamente sul calcio d'angolo Che gol E Pistoiese in svantaggio Ecco il cross di Toledo A cercare Bigoni Stacca Bigoni di testa Palla pericolosamente Deviata dal portiere in calcio d'angolo Buona occasione qui per Carlo Bigoni Ecco la battuta del calcio d'angolo Allontanato Toledo Controlla ancora Toledo Avvia il difensore E poi prova la botta Cora Carlo Bigoni Prova a saltare Non è che c'è Ci riesce con il tunnel Bigoni in area di rigore e cade Quadrini si libera per il tiro Toledo avanza Dentro per Peluso Peluso Finta al tiro Poi lo prova Sul fondo di un niente Che tiro Di Maurizio Peluso Quella rimessa per due Julio può andare al cross L'effetto Il tocco di mano Il tocco di mano Rosso Trattenuto Rosso Rosso diretto Per il pennello E' arrivato Fatto la rosa Ballone riconquistato dal capitano Ancora Gambadori lotta Come un leone Gambadori da fuori L'ospiti Tutti dietro la linea della palla Toledo Va al cross E' buono Per Milinklenni Vibore Milinklenni 1-1 Il controllo E' il tiro Di Gambadori Di Gambadori E' una barata Del portiere Che tiro Di Alessandro Gambadori Ecco la battuta Del calcio d'angolo Ci prova anche Milinklenni Non è fortunato Però Controlla e appoggia Per Toledo Toledo Pensa al tiro Lo va a effettuare Guarda che resta lì E finisce qui Tra Pistogliese e Arezzo E' uno a uno Il controllo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.